Vicepresidente Maiorino, la Nacerina riparte dalla Serie D, è stato fatto un comunicato nel quale si spiegavano i motivi della mancata domanda di ripescaggio, li vuole ribadire di nuovo ai tifosi che inevitabilmente si stanno lamentando per le strade davanti ai bar? Per carità, io ci tengo anche a fare una precisazione sul punto, noi comprendiamo ovviamente i tifosi, da semplici tifosi probabilmente avremmo fatto le medesime considerazioni, quindi su questo punto non c'è contrapposizione rispetto a quelle che possono essere in questo momento magari le lamentele o il rammarico dei tifosi, però è evidente che chi gestisce una società e in questo caso sono ugualmente dei tifosi, però nello stesso tempo devono essere prima dirigenti, devono necessariamente valutare tutta una serie di altri requisiti e presupposti che devono tendere a salvaguardare in primo grado ovviamente la continuità anche economica della società e poi il perseguimento dei risultati sportivi. Abbiamo ritenuto chiaramente sulla scorta di quello che avevamo detto un mese fa, perché a me l'unica cosa che è dispiaciuto è che qualcuno ha visto una contraddittorietà tra quello che era stato dichiarato un mese fa e quello che poi è stato invece espresso nel comunicato, mi permetto di dire che non è così, nel senso che un mese fa è stato semplicemente dichiarato che noi attendevamo i parametri per poterli valutare e poi prendere una decisione, quindi nessuna preclusione a monte nei confronti del ripescaggio, ma la volontà di attendere le determinazioni della Lega, che è che onestamente all'epoca di quella conferenza, almeno dai rumors che giungevano e da Roma e da Firenze, sembravano orientati ad un ulteriore abbattimento, decurtazione, così come era stato il trend degli ultimi anni del fondo perduto. Invece ci siamo ritrovati con un fondo perduto più alto e più alto rispetto a quello dell'anno scorso che ha già dimostrato essere una mazzata incredibile per tutte le società che invece hanno deciso di affrontarla, quella spesa iniziale, perché al di là dei risultati sul campo difficili, diciamo così, quasi per tutti, anche per piazze importanti, oggi queste società, chi più chi meno, affrontano una situazione economica molto complicata e proprio in virtù di quell'esborso iniziale che attualmente è eccessivamente, da un punto di vista finanziario, incidente su quello che è un budget complessivo di una società media che sta a cavallo tra la Serie C e la Serie D. Quindi queste valutazioni fatte in maniera molto serena, molto ponderata, ci hanno spinto per il momento a decidere di non chiaramente presentare questa domanda e di focalizzarci su un campionato di Serie D. Ecco, un campionato di Serie D che dovrà vedere necessariamente la nocerina protagonista con l'unico obiettivo di tornare tra i professionisti e guadagnarsela sul campo. Certamente l'obiettivo è quello di fare bene, di fare meglio di quest'anno, quindi è chiaro che è inutile fare dei proclami, però credo che un obiettivo ancora più importante, ce lo siamo detti anche prima in conferenza stampa, quest'anno noi dobbiamo fare in modo di riuscire a riproporre una squadra con cui i tifosi riescano nuovamente ad identificarsi, cosa che quest'anno è un po' mancata. Quindi abbiamo la necessità di puntare su calciatori di un certo tipo, su calciatori che vengano qui motivati, convinti, vogliosi, che accettino Nocera come prima scelta e che al di là del valore del calciatore, che certamente deve essere un valore importante, debbano però metterci quel qualcosa in più sotto il profilo della voglia, dello spirito di rivalsa, della rabbia, perché abbiamo proprio la necessità di ricostruire, di ricreare un'empatia tra il pubblico, tra la città e la squadra, che credo sia un aspetto fondamentale e quasi prioritario rispetto agli obiettivi sul campo, perché gli obiettivi sul campo possono essere conseguenza di questa ricostruzione che noi dobbiamo essere bravi a fare, che certamente non è una cosa semplice. Il progetto tecnico riparte dalla figura del direttore sportivo Battisti, quali elementi vi hanno spinto a scegliere lui e non un altro? Gli stessi elementi che illustravo poc'anzi per quanto concerne il gruppo di calciatori, oltre chiaramente alla competenza e alla professionalità che noi gli riconosciamo, perché è un direttore che ha sempre lavorato estremamente bene, sia da calciatore che da direttore sportivo è sempre rimasto molto legato per molti anni alle società con cui ha lavorato e questo depone bene, devo dire, anche sulla persona, mi permetto di dire. È una persona e un professionista che in questo momento è mosso da un grandissimo spirito di rivalsa, di voglia di fare bene, ha una fame incredibile e quindi viene qui un po' con lo stesso spirito che abbiamo noi e con lo stesso spirito che devono incarnare tutti coloro che verranno qui quest'anno a darci una mano, dal direttore all'allenatore ai calciatori, per ricostruire quell'unità di intenti che è l'unica che può portarci ad avere dei risultati importanti. Ecco, ha citato l'allenatore e nelle prossime ore verrà ufficializzato, il direttore ci ha detto che il nuovo profilo dovrà essere una persona che ha voglia di vincere, ha rabbia e riesce a reggere le pressioni di una piazza del genere. Morgia potrebbe rispecchiare tutte queste caratteristiche che ho elencato? Morgia sicuramente le potrebbe rispecchiare, nel senso che certamente non è un allenatore che scopriamo noi o che sarebbe una scommessa, è chiaramente un allenatore che allena non so da quanti anni con precisione, è un allenatore che ha vinto tantissimi campionati, li ha vinti in epoca passata, li ha vinti in epoca recente, li ha vinti in categoria superiore, li ha vinti in questa categoria ed è certamente un profilo che sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista caratteriale ovviamente tutte queste qualità le incarna, quindi certamente è un profilo interessante che ci interessa, non è però l'unico e quindi sicuramente in settimana noi chiuderemo anche con la scelta dell'allenatore.